È un progetto di marketing territoriale finalizzato a far crescere Messina e la sua provincia come destinazione turistica. Il mondo è cambiato, è cambiato anche il modo di viaggiare, è cambiato l'approccio dei turisti, dei viaggiatori rispetto a bisogni, esigenze, esperienze che devono assolutamente sposarsi non solo con le bellezze e con le ricchezze dei territori ma anche una nuova interazione esattamente con la comunità che le accoglie. E quindi Destination Make è un approccio nuovo che consentirà di attrarre flussi ma soprattutto di mettere in relazione i territori della nostra provincia in maniera tale che insieme possano tracciare una strategia comune per l'attrazione turistica.